Aumento della capacità di ormeggio dello scalo marittimo ma anche la razionalizzazione dello specchio acque ai fini della movimentazione dello stoccaggio delle merci è in estrema sintesi la finalità e l'obiettivo principale del nuovo piano regolatore portuale presentato questa mattina dal presidente dell'autorità portuale Andrea Annunziate dal segretario generale dell'autorità Luigi Di Luise. Nei dettagli il documento programmatico prevede il raddoppio del molo Manfredi, il prolungamento del molo Ponente, l'ampliamento del molo Trapezio e l'ampliamento del molo Tregennaio. Nel piano anche il miglioramento delle condizioni di sicurezza della navigazione in ambito portuale mentre con il comune di Salerno verrà copianificato tutto quello che riguarda il nuovo polo croceristico con l'apertura della stazione marittima. Questo quadro eccezionale si inserisce il nuovo strumento urbanistico del porto che prevede il recupero di 100.000 metri quadrati in più di superfici. Come? Risagomando le banchine, allungandole e quindi tutte quante daranno un contributo importante che chi 10.000, chi 20.000, chi 35.000 metri quadrati da Ponente al Tregennaio e tutto il resto avremo quasi 100.000 metri quadrati in più. E questo è importante perché avremo possibilità di ulteriori settori merceologici che pure ci richiede tutto il mondo di portare a Salerno e di far partire da Salerno. L'altro momento straordinario è quello del settore del polo croceristico. La stazione marittima che è stata inaugurata ha avuto subito un riscontro a livello mondiale perché già abbiamo i primi riscontri di interesse per la stazione marittima. In questo momento viene gestita da stazione marittima società per azioni di Salerno. Tanti ragazzi che hanno fatto questo lavoro in silenzio e benissimo in questi anni senza stazione marittima e adesso hanno vinto la gara per la gestione provvisoria.